in questo numero di qui europa magazine marrosso primi passi verso la missione europea bce i tassi restano invariati accordo sul taglio delle emissioni di co2 per i veicoli pesanti un accordo di principio su una missione europea nel mar rosso a difesa del traffico marittimo minacciato dai ribelli huti e quello raggiunto a bruxelles dal consiglio affari esteri dell'unione ci sono però posizioni diverse sui dettagli delle regole d'ingaggio italia germania e francia propongono di estendere il mandato della missione che è già operativa nello stretto di ormus alcuni stati però sarebbero resti a impegnarsi direttamente l'obiettivo è arrivare a un accordo nel prossimo consiglio affari esteri in programma a febbraio il vice premier e ministro degli esteri antonio tagliani spiega il concetto di difesa rinforzata alla base della proposta italo francese tedesca la missione europea non credo che preveda attacchi in territorio jemenita perché non è mai successo però ci sarà una protezione militare molto forte determinata e mi auguro con tutti gli strumenti necessari per abbattere missili e droni quindi per colpire gli attacchi e naturalmente colpire se dovesse esserci attacchi via mare tutti coloro che attaccano quindi una difesa rinforzata dei mercantili per il momento senza partecipazione perché in quel caso servirebbe un voto ulteriore del Parlamento però l'uso della forza verrà fatto per difendere i mercantili cioè non sarà un semplice accompagnamento il consiglio direttivo della banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento nel dettaglio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale restano rispettivamente al 4,50% al 4,75% e al 4% secondo la BCE la tendenza al ribasso dell'inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda contribuendo al rallentamento dei rincari il consiglio direttivo conferma l'impegno ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine e i tassi di interesse a livello attuale forniranno un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo i tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario il consiglio e il parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulle norme in materia di emissione di CO2 per i veicoli pesanti gli obiettivi concordati prevedono una riduzione del 45% delle emissioni al 2030 del 65% al 2035 e del 90% al 2040 oltre al target del 15% al 2025 già previsto dalla normativa vigente i target si applicheranno ai veicoli pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e agli autobus per i nuovi bus cittadini è previsto un taglio delle emissioni del 90% entro il 2030 per poi raggiungere le zero emissioni entro il 2035 nel 2027 l'Unione Europea farà una valutazione intermedia degli obiettivi le nuove norme contribuiranno a realizzare le ambizioni climatiche dell'Unione Europea per il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 lo scopo è anche quello di incoraggiare una quota crescente di veicoli a emissioni zero nel parco dei mezzi pesanti europei nel 2035 le norme saranno estese anche ai veicoli professionali come i camion della spazzatura o le betoniere sono esclusi i produttori di piccoli volumi e i veicoli utilizzati per l'estrazione mineraria la silvicoltura e l'agricoltura i veicoli ad uso delle forze armate e dei vigili del fuoco e i veicoli destinati alla protezione civile, all'ordine pubblico e all'assistenza medica